Riprendiamo con Andrea Poltornieri che è psicologo, clinico e psicoterapeuta e collabora con la rete Daphne Mantua ovviamente al supporto psicologico, però è anche giudice onorario del Tribunale dei Minorenni di Brescia e quindi ha una grande esperienza, una preparazione sia in psicologia forense che in criminologia. Come dicevo le giornate di oggi sono un momento, abbiamo appena visto nell'intervento precedente una prospettiva europea, adesso sempre attraverso un progetto europeo che è InfoVictims 3, in realtà andremo ad analizzare, a presentare a livello nazionale il portale InfoVictim, frutto del lavoro appunto di Libra, che è come ho già detto all'inizio un portale informativo rivolto ai cittadini europei che si pone l'obiettivo di rendere accessibili in un linguaggio semplice seppur corretto informazioni precise e puntuali riguardo alla tutela e ai percorsi a cui poter accedere se si è stati vittima di reato. Quindi è una grande continuazione con la precedente e il precedente intervento. Passo la parola ad Andrea. Grazie. Allora, sì buongiorno, io vi presenterò, dato che sono già stato presentato, parto subito con la mia breve esposizione, vi presenterò il progetto InfoVictims che ha visto Libra coinvolta come partner italiano negli ultimi due anni. Utilizzerò le slide per mostrarvi alcune cose e poi utilizzeremo direttamente il sito perché voglio mostrarvi come è costruito. Quello che vorrei fare durante il mio intervento è in una prima parte mostrarvi come si è arrivati alla terza edizione del progetto InfoVictims, quindi quali sono i punti di forza, quali sono gli aspetti che hanno portato per la terza volta in dieci anni l'Unione Europea a finanziare un progetto con questi contenuti fondamentalmente. E nella seconda parte invece vi presenterò proprio i risultati del progetto che sono degli strumenti pratici, concreti, utili ed efficaci, stando ai buoni risultati delle prime due edizioni e che potenzialmente potrebbero essere utili a tutti da integrare nel nostro lavoro quotidiano con le vittime di reato. Quindi tutto nasce con la direttiva, come è già stato illustrato prima di me, quindi andrò veramente veloce. Uno dei focus centrali della direttiva è il diritto alle informazioni per la vittima. Una serie di tipologie di informazioni che devono essere continuative durante tutto il percorso di uscita dalla vittimizzazione, sia che ci sia un procedimento di giustizia, sia che questo non ci sia. Basandosi su questa direttiva fondamentalmente APAV, è stato già nominato prima, che è la rete portoghese di supporto alle vittime, che è un punto di riferimento a livello europeo per qualità nella tutela delle vittime di reato, ha scritto e portato avanti questo progetto InfoVictims, dove fondamentalmente ha provato a capire come mettere in pratica l'informazione semplice, comprensibile, raggiungibile ed efficace per tutte le vittime di reato. Austria, Repubblica Ceca e Portogallo sono stati i primi partner. Il progetto ha portato un esito, che è il portale InfoVictims, che è stato ritenuto molto molto efficace e di qualità, tant'è che nel 2013, durante una conferenza di Victim Support Europe, l'allora vicepresidente della Commissione Europea ha dichiarato InfoVictims InfoVictims come best practice, quindi come buona pratica a livello europeo. Il primo riconoscimento che è arrivato a InfoVictims, come buona pratica nell'informazione alla vittima di reato. Questo ha portato alla seconda edizione di InfoVictims. Nel biennio 2014-2016, dove si sono aggiunti degli Stati membri che hanno implementato, quindi hanno adattato, tradotto e implementato all'interno del proprio Stato e del proprio sistema, i materiali di InfoVictims. Ancora nel 2018, con una risoluzione del Parlamento europeo sull'attuazione della direttiva, al punto 63 veniva invitata la Commissione a mettere in risalto il potenziale dell'utilizzo del materiale di InfoVictims nella buona informazione alle vittime di reato. Quindi arriva un altro riconoscimento per il materiale, per il lavoro fatto e di sviluppo di quello che tra poco andremo a vedere. E così si arriva al 2020, quando la terza edizione di InfoVictims ha visto nuovi Stati partecipare come partner, tra cui anche l'Italia e noi come associazione Libra, come partner operativo in collaborazione con Rete Daphne Italia. In cosa è consistito il progetto InfoVictims? È consistito nell'adattare i contenuti già esistenti e che si sono rivelati utili ed efficaci, sia nei contenuti che nella forma, e li abbiamo adattati al nostro contesto, quindi al nostro sistema, ai nostri punti di riferimento italiani. Fatto questo abbiamo validato i contenuti per mantenere una qualità alta, come richiesto, e la validazione è avvenuta tramite la collaborazione con degli esperti di settore, a partire da Rete Daphne Italia, passando per la Procura di Mantova, passando per la Divisione Centrale Anticrimine di Roma, e per l'Avvocatura, e per un gruppo di psicologi che ha contribuito, diciamo, per la parte più legata a quegli aspetti. È stato tradotto sia, ovviamente, in italiano che in inglese, e sono stati prodotti dei materiali, quindi abbiamo tutta una partita online, che è il sito, il portale, che vedremo tra molto poco, una app che è in fase di sviluppo e che si potrà scaricare gratuitamente, e tutta una partita di strumenti offline, di strumenti offline che avete potuto vedere in ingresso, che sono questo poster, una brochure, che dopo vi presenterò. Vi devo mostrare il sito. Il microfono è attivo? Quindi, sintetizzando, cos'è InfoVictims? InfoVictims è un pacchetto di strumenti che facilita l'accesso alle informazioni da parte di tutte le vittime di reato. Diciamo che i focus esplorati e sviluppati da InfoVictims sono quattro. le conseguenze emotive e psicologiche della vittimizzazione, che esse siano traumatiche, che esse siano, come dire, le normali reazioni a subire un evento come può essere un reato, un focus sul procedimento penale, un focus su chi sono tutte le persone che potenzialmente una vittima di reato incontra nel suo percorso di uscita dalla vittimizzazione, e quali sono i diritti della vittima di reato così come indicati nella direttiva. E come lo fa? Lo fa in una modalità semplice, il linguaggio è il più semplice possibile, il meno professionale possibile, e forse con un design accattivante, poco professionale, ma diciamo che vuole alleggerire i contenuti. E come detto, questi sono gli strumenti. Per mostrarvelo, andiamo sul sito. Questa è l'interfaccia e la home page del sito, quindi www.infovictims.com vi porta a questa home page, dove vedete che ci sono tutte le bandierine di tutti gli stati che negli anni si sono dotati di Info Victims, e finalmente ci siamo anche noi verso la fine. Come vedete c'è la doppia versione, la versione in italiano e la versione in inglese. Cliccando sulla versione in italiano arriviamo al vero e proprio sito Info Victims. Com'è costruito il sito? In alto c'è un primo menu nero, dove si può ritornare alla home page iniziale, si può passare al sito in inglese, ci sono i contatti utili, documenti e allegati utili, che adesso vi mostrerò. Un po' sotto c'è un altro menu con i quattro focus principali del sito, quindi le conseguenze e le reazioni più psicologiche ed emotive del reato, i diritti delle vittime di reato, il processo penale e tutte le figure coinvolte. Nella parte centrale c'è un po' un'accoglienza, ecco una caratteristica del sito che probabilmente lo rende così, l'ha reso così efficace, è che in qualche modo è come se il sito parlasse alla persona che lo legge, in un linguaggio semplice, come se fosse un operatore che ascolta e risponde a domande, dubbi, da consigli, da suggerimenti. E in fondo la parte della città virtuale, come accennava prima il dottor Bouchard, finisce con ancora un richiamo al menu. Dicevo, nel menu in alto, che cosa possiamo trovare? Possiamo trovare un link a una pagina a contatti utili. Abbiamo inserito alcuni siti che potrebbero essere utili alle persone che subiscono un reato, a partire dal sito di rete Daphne Italia, a partire dai siti delle forze dell'ordine, quello di Victim Support Europe, la rete nazionale antiviolenza e altri. Con un link diretto che li porta alla pagina. Cliccando su documenti allegati utili, invece siamo portati a una pagina dove, siamo ancora, come dicevo prima, in fase di definizione, si possono trovare alcuni modelli, alcuni facsimile, alcuni documenti utili per una persona che magari entra in un processo, in un percorso di giustizia e ha bisogno di vedere e orientarsi rispetto ad alcuni modelli o ad alcuni documenti che incontra sul proprio percorso. Abbiamo poi una pagina glossario. L'obiettivo di questa pagina è, in ordine alfabetico, inserire e definire nel modo più semplice possibile e comprensibile possibile ai non addetti ai lavori, quindi ai non professionisti, alcuni termini che tendenzialmente si sentono dire legati al reato, alla vittimizzazione, all'autore di reato, al processo penale, eccetera, eccetera. E come vediamo sono strutturati proprio come un glossario, quindi ordine alfabetico, parole come appello, archiviazione, assenza, avvocato, e ancora giù cauzione, centro antiviolenza, codice rosso, e ancora denuncia, dibattimento. E tutti sono spiegati con una definizione semplice per una persona che magari non ha le competenze o l'esperienza o la professionalità che gli consentono già di avere questo tipo di conoscenza. E poi c'è un richiamo alla mappa del sito, quindi all'indice del sito, dove si può cliccare direttamente e essere portati direttamente alle sottosezioni del sito stesso. A lato, come vedete, ci accompagna sempre su e giù questo piccolo menu, ok? Con tre voci, Cima, che dato che il sito è stato implementato da un'agenzia portoghese, probabilmente ecco, sulla lingua c'è stato un po' così, di fraintendimenti, ma fondamentalmente si porta in cima al sito. La voce mappa, che ci riporta proprio alla mappa del sito, e la voce uscita, che diciamo un po' l'uscita d'emergenza, perché ci porta fondamentalmente sulla home page. Quindi nel momento in cui una persona sta visitando il sito e ha bisogno di chiuderlo in maniera rapida, può cliccare lì e si apre una pagina neutra di Google. Il secondo menu è quello un po' più legato ai contenuti veri e propri del sito. Come vedete c'è il primo, la prima voce, sono stato vittima di un crimine, conseguenze e reazioni. Si apre un menu a tendina con le reazioni delle vittime di reato che riporta a un altro menu dove sono state inserite le principali, più comuni, forse, reazioni a cui può essere, che può vivere una persona che subisce un reato. Banalmente, aprendo la pagina, come abbiamo detto c'è una sorta di interfaccia che accoglie il fatto che la vittima di un reato può vivere una serie di reazioni emotive e tutte le indicazioni delle potenziali reazioni, ad esempio il flashback, con una breve spiegazione di che cos'è un flashback e l'invito a rivolgersi a qualcuno per chiedere aiuto in caso di necessità e così per altre reazioni emotive come possono essere la paura, la rabbia, eccetera, eccetera. La seconda sottopagina di questa sezione riguarda il trauma, quindi, brevemente, le fasi di sviluppo del trauma e quello che è il disturbo di stress post-traumatico con degli accenni molto rapidi e con l'invito sempre a chiedere un supporto o rivolgersi ad esempio a un centro di supporto vittime reato per avere maggiori informazioni delucidazioni e accoglienza. E infine, la terza voce riguarda i consigli per affrontare le conseguenze della vittimizzazione. Anche qua, molto semplici, sono cose banali, sono cose banali ma alle quali magari una persona non pensa e ha bisogno di leggerle, come se ci fosse qualcuno che l'accoglie, l'ascolta e la sostiene in quello che sta vivendo. Quindi, come vedete, parlare di quello che è successo, chiedere un aiuto, dire come ci si sente. Questa è la prima parte, è il primo focus del sito, le reazioni emotive e psicologiche. Sempre sul menu si possono andare a vedere i diritti delle vittime di reato. Anche qua, ci rimando alla direttiva, e c'è una breve spiegazione di tutti o della maggior parte meglio dei diritti della vittima di reato a partire ad esempio dal diritto alle informazioni. Spiegato in un linguaggio anche qua semplice e accessibile, che tipo di informazioni ha diritto una persona vittima di reato a ricevere, informazioni sui diritti, informazioni sul processo e come poter accedere e garantirsi questo diritto. Io adesso li scorro molto velocemente per farvi vedere la struttura, ma ovviamente è online e quindi potete benissimo andare a navigarci e scoprirlo come in tutti gli angoli che desiderate. E come dicevo alcuni dei maggiori diritti, diritto alla traduzione, il diritto di accesso ai servizi di assistenza alle vittime, il diritto di essere ascoltato, il diritto al risarcimento e viene spiegato in un modo anche conciso di cosa si tratta. Questo è il secondo grande focus del sito. Il terzo, come accennavamo in precedenza, è il processo penale. Quindi anche qua viene spiegato in parole povere, semplici, ma complete come si compone un processo penale a partire dall'aver subito un reato, quindi di cosa significa un reato e come sono definiti i reati, come si può far arrivare la notizia di essere stata vittima di un reato alle forze dell'ordine attraverso una denuncia. E anche qua il pensiero che ci sta dietro è sempre quello di comunicare a un lettore che ha bisogno di avere informazioni, che ha bisogno di essere anche accolto tra virgolette nell'esperienza che probabilmente ha vissuto di vittimizzazione, ad esempio dicendogli perché è importante denunciare un reato oppure come dire confrontando le diverse scuse che molte volte vengono tirate fuori non era importante, non era un reato, le autorità non se ne occupano, non so parlare in italiano, è finito e non sono stato influenzato. Fino ad arrivare come denunciare un reato, denuncia, querela, come si fa, dove si fa, da cosa è composta, qual è il contenuto, quali sono le differenze, andando oltre le indagini preliminari, cosa significa e cosa succede durante le indagini preliminari, cosa succede al termine delle indagini preliminari, quindi archiviazione, che cosa significa archiviazione, qual è il ruolo della vittima, qual è il mio ruolo se in questo caso di archiviazione, così come il rinvio a giudizio, quindi cosa succede quando c'è il rinvio a giudizio, qual è il mio ruolo, come si struttura un processo e anche qua ci sono varie sottopagine, quindi programmazione del processo, preparazione, quindi qualche consiglio utile su come la persona si dovrebbe preparare al processo, come è composto, quindi udienza preliminare, dibattimento, processi, processo, udienza, ok, quindi anche come è composto in ordine temporale, quello che succede una volta che sono lì, cosa succede? Lo so in anticipo, lo leggo qua ed è una modalità semplice per leggerlo, rileggerlo, lo leggo oggi, lo leggo domani, lo rileggo dopo domani e pian piano, come diceva prima il dottor De Martini, reitero l'informazione in modo che diventi sempre più mia e i riti alternativi che possono esserci. La sentenza, come è composta, quali sono i contenuti, cosa succede in seguito a una sentenza ed eventualmente quello che io posso fare per fare ricorso con una sentenza e quello che succederà dopo. E al termine ancora, come prima, alcuni consigli alle vittime in questo caso. Quindi anche qua consigli banali, dire sempre la verità, ascoltare le domande, prendersi il proprio tempo, non avere paura di dire quello che si sa, rispondere solo alle domande, poter dire non lo so, poter dire non ricordo, oppure poter richiedere una pausa, come comportarsi se si incrocia l'autore del reato. L'ultima sezione è il chi è chi, quindi quello che prima dicevamo, quali sono le figure che potenzialmente una vittima di reato può incontrare nel suo percorso di uscita dalla vittimizzazione. Partendo da se stessa, quindi la vittima, ok? Anche qua, chiunque può essere vittima di un reato, chi è definito come vittima, chi viene definito come vittima, passando per tutte le figure, quindi avvocato, il pubblico ministero, il giudice, le forze dell'ordine, il testimone, l'interprete, i periti, l'indagato, imputato. E anche qua viene descritta la professionalità della figura in un modo ritenuto semplice e comprensibile. E qual è il suo ruolo all'interno di tutto il procedimento. Passandola alla parte bassa del sito, la virtual city, sulle quali abbiamo collocato alcune dei luoghi che potenzialmente una vittima di reato potrebbe frequentare o che avrebbe bisogno di sapere che esistono e sapere come, quando e perché rivolgersi. Abbiamo inserito l'ospedale, così come abbiamo inserito il tribunale, le sedi delle forze dell'ordine e i centri di supporto per le vittime di reato ma come vedete ci sono ancora degli edifici liberi quindi possiamo sempre integrare e migliorare. Questo è un sito che non è statico. L'obiettivo è quello di integrarlo, modificarlo, migliorarlo col contributo di tutti. Siamo molto orgogliosi di questo sito ma non ne siamo gelosi quindi, come dire, accogliamo tutte le buone indicazioni, i buoni suggerimenti che vogliate appunto indicarci. cosa succede se io clicco ad esempio sulle sedi delle forze dell'ordine? Mi apre e mi porta quali sono le sedi delle forze dell'ordine italiane, cosa posso andare a fare all'interno di una sede della forza dell'ordine e ancora ad esempio per le forze dell'ordine abbiamo rimandato al sito della questura al sito dei carabinieri che collocano tutte le caserme di Italia e quindi uno può vedere quella più vicina a se stessa. come vedete ogni tanto ci sono delle parole in blu sono dei link che rimandano alle altre pagine interne al sito perché magari io mi trovo qua come prima indicazione ma ho bisogno di avere maggiore informazioni sulle forze dell'ordine e sul loro operato teoricamente mi dovrebbe rimandare alla pagina delle forze dell'ordine e del loro operato ma questo era un colpo di scena così però ecco succederà ve lo prometto nella parte bassa invece del sito ancora riprendiamo gli stessi menu di prima sì come faccio farlo lo faccio in finale adesso volevo proiettare le slide 5 minuti per concludere con i materiali offline che dal vivo ve li posso mostrare e li trovate anche sul tavolo in ingresso e quindi potete prenderli e vederli da casa vorrei proiettarlo sperando che non salti tutto ancora ok come accennavo in precedenza online c'è il portale e forse adesso da casa mi sentono dicevo che noi ne siamo molto orgogliosi ma non ne siamo gelosi quindi è modificabile migliorabile attraverso i consigli di tutti offline abbiamo prodotto una piccola brochure questa che è una versione condensata dei contenuti di InfoVittims rispetto al processo penale ai 20 consigli per le vittime e ai diritti per le vittime in presenza vi invito a sfogliarla in ingresso da casa vi faccio vedere com'è composta quindi ancora la grafica e quella del sito una grafica che si spera che sia più familiare più confidenziale ecco poco professionale e il linguaggio i contenuti sono sempre quelli del sito quindi il processo penale i consigli per le vittime e i diritti per le vittime di reato un altro materiale che abbiamo prodotto è il poster dei diritti delle vittime di reato anche questi ci sono in ingresso sono su un formato A3 e riportano fondamentalmente i diritti delle vittime di reato con un invito in fondo a poter contattare Rete Daphne Italia abbiamo messo il nostro numero di telefono come associazione Libra per avere maggiori informazioni e come vi dicevo ci sarà prodotta una app che non è ancora pronta da scaricare ma è in produzione che avrà una geolocalizzazione quindi un po' la Google Maps a seconda di dove siamo ci indica quali sono i servizi vittime più vicini le forze di polizia più vicine e i servizi sanitari più vicini in conclusione qual è l'utilità di InfoVittim l'utilità è che ci sono dei materiali di facile consultazione che possono essere condivisi direttamente con le vittime di reato che incrociamo nei nostri diversi ruoli professionali oppure rimandarli sul sito web che è anche facilmente una visualizzazione ottima anche da cellulare e quindi possono navigare direttamente loro e studiarsi tutto quello che c'è dentro il linguaggio è comprensibile veramente a tutti perché è importante dare informazioni alle vittime in sostanza un po' perché lo dice la direttiva ma questa non è la ragione principale l'altra ragione è perché una persona consapevole una persona informata è una persona che sarà anche più partecipe di quello che è il suo le sue scelte e il suo percorso e quindi è importante aiutarla e dargli le possibilità agli strumenti per essere consapevole e le due edizioni precedenti di Info Victims hanno mostrato che questo è uno strumento che riesce in questo intento come diceva una collega all'ultima conferenza a Lisbona una collega svedese le loro statistiche dicono che le persone le vittime che hanno avuto modo di accedere alle informazioni di questo tipo perché loro utilizzano materiali come Info Victims prima e durante il loro percorso di uscita dalla vittimizzazione sono persone che sono state più collaborative con le procure più presenti più consapevoli di quello che gli stava succedendo e questo ha aiutato nella risoluzione positiva dei percorsi di uscita dalla vittimizzazione sia da un punto di vista emotivo che giudiziale proprio queste persone quindi la nostra speranza è che questi materiali possano entrare diciamo negli uffici o nelle istituzioni o nei servizi che si occupano di vittime di reato perché possono essere utili e questo è quello che ci ha dimostrato il passato nei diversi stati che hanno adottato Info Victims quindi insomma perché no perché no in Italia ecco questa è un po' la nostra la nostra speranza con difficoltà ma ho concluso grazie a tutti grazie a tutti